Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, è venuto finalmente il momento di conoscere il nuovo OnePlus 7T Pro. Giusto un paio di settimane fa abbiamo conosciuto il nuovo OnePlus 7T, quello che ha introdotto il sensore della fotocamera posteriore con una forma circolare. Quello che invece vediamo, 7T Pro, ha mantenuto l'aspetto che già conoscevamo, quello cioè del semaforino con tre sensori posteriori, di cui il sensore principale è a 48 megapixel. Ma la prima cosa che dobbiamo notare guardando questo telefono è il display frontale. Non ci sono interruzioni di sorta perché c'è la pop-up cam per gli selfie e quindi non ci sono interruzioni del display. Display da 6,67 pollici, è un Fluid AMOLED con una definizione QHD, quindi definizione elevatissima, addirittura 516 pixel per pollice. Ma non è l'unico dettaglio straordinario perché questo telefono ha anche un refresh rate che arriva fino a 90 Hz. Display curvo, molto molto bello, difficile pensare di usare questo telefono senza una cover, perché l'effetto saponetta purtroppo è sempre possibile. Molto sottile, bellissimo da vedere e anche da impugnare. Diciamo tutto sommato anche con un peso accettabile rispetto a molti altri prodotti che sono oggi in circolazione. Display quindi veramente fenomenale e nel nuovo modello, il 7T Pro, sono state migliorate alcune modalità di lettura per rendere l'utilizzo del telefono sempre più gradevole. Fotocamera posteriore, tre sensori, 48 megapixel, 16 megapixel, 8 megapixel. 48 megapixel è il sensore principale con stabilizzazione ottica, con un'apertura 1.6 e con la capacità di riprendere delle immagini grazie anche all'ultra shot engine sviluppato in casa da OnePlus che rende la qualità fotografica di questo telefono veramente interessante. Devo dire che il miglioramento rispetto al modello 7 è veramente interessante. Nei prossimi giorni avremo modo di entrare ulteriormente nel tema della fotocamera di OnePlus 7T Pro perché vale la pena davvero di provare fino in fondo questa soluzione. con un sensore da 16 megapixel e 117 gradi di apertura per il grand'angolo e poi uno zoom ottico 3x con un'apertura 2.4 e come detto un sensore da 8 megapixel. Le tre fotocamere combinate danno veramente un risultato notevole. OnePlus negli anni ha migliorato la qualità della fotocamera in modo veramente sensibile. Siamo curiosi di vedere quale sarà la valutazione di ExoMark di questo telefono per vedere quale miglioramento è stato fatto dal modello precedente a questo. Diciamo che già il modello 7 era un salto in avanti notevole. Il 7T Pro diciamo che promette delle messe a punto ulteriori rispetto ai sensori che abbiamo visto nel modello uscito qualche mese fa. Una delle novità importanti della fotocamera è la nuova modalità Macron che permette di fare scatti addirittura a due centimetri e mezzo di distanza dal soggetto migliorando sensibilmente ogni piccolo dettaglio che viene ripreso. Altra novità importante della fotocamera sono le modalità per gli scatti con il ritratto. Ci sono nuove modalità di ripresa con i 7T Pro. Non manca la modalità Night Shot. In questo caso la novità principale di 7T Pro è che la modalità Night Shot è stata estesa anche al grand'angolo. Si combinano dunque gli scatti con diversi tipi di esposizione per avere il miglior scatto notturno possibile. La novità importante per l'appunto è che questa modalità che già ha dato dei risultati molto interessanti con il 7T Pro ora, come detto, è stata estesa anche al grand'angolo. Grande importanza è stata data anche alle riprese video che ora hanno una doppia stabilizzazione ottica e anche elettronica. Quindi diciamo che è una stabilizzazione ibrida per un risultato che dovrebbe essere ulteriormente, diciamo, di livello qualitativo alto. Proveremo nelle prossime settimane con grandissima attenzione la parte video perché sappiamo che questo è quello in cui forse OnePlus aveva i margini di miglioramento principali. Pop-up cam frontale da 16 megapixel, sappiamo insomma con una discreta qualità. Sappiamo però che la cosa più importante quando parliamo di OnePlus 7T Pro e di OnePlus in generale è quello che c'è dentro il telefono, in questo caso Snapdragon 855 Plus con lo standard poi di memoria UFS 3.0, vuol dire addirittura oltre 23 giga di dati al secondo trasferiti e quindi una lettura e una scrittura dei dati velocissima che rende il telefono particolarmente veloce. Questo è un dettaglio veramente fondamentale unito alla memoria da 256 giga. Non c'è espansione di memoria nel 7T Pro, questo per rendere il telefono veramente estremamente veloce senza correre il rischio di peggiorare la performance, magari con la memory card sbagliata. Un telefono questo che per quanto riguarda le prestazioni è veramente tra i migliori in assoluto del mercato. Sapete che tutta questa potenza ovviamente viene usata soprattutto per giocare, c'è il nuovo Fnatic Mode che proprio realizzato insieme a Fnatic evita di avere interruzioni durante i propri giochi. C'è anche un motore che dà una vibrazione aptica utile soprattutto ad avere dei feedback molto forti, molto diciamo percepibili, ancora più accattivanti quando si sta giocando. Combinazione di processore, memoria e quindi insomma standard di memoria UFS 3.0, di potenza proprio di capacità di memoria disponibile e RAM rendono questo telefono combinato anche con il display a 90 Hz, veramente un pezzo da 90. Il nuovo OnePlus 7T Pro porta un'altra novità, c'è la Warp Charge, ma non è la Warp Charge 30, ma la Warp Charge 30T. Questo vuol dire che la nuova ricarica è del 23% più veloce rispetto al passato. Una batteria da oltre 4000 mAh, se rimanete senza batteria con una capacità di questo genere, c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto con il telefono. Ovviamente tutta questa potenza, tutta questa capacità di memoria, tutta questa forza anche delle fotocamere e la bellezza del display devono avere un software di base per gestirli. Il nuovo sistema operativo di OnePlus 7T Pro è basato su Android 10. Questo è il primo prodotto ad arrivare ufficialmente sul mercato con Android 10 come sistema operativo nativo. OnePlus promette 370 migliorie rispetto ai modelli precedenti. L'utilizzo delle gestures in modo molto avanzato è una novità anche molto carina. La Zen Mode, che permette di prendere un break dal proprio telefono, non è più solo da 20 minuti, ma può durare dai 20 ai 60 minuti. Bisogna capire se tutti voi siete in grado di gestire un distacco dal vostro telefono che arrivi addirittura a 60 minuti di tempo. Arriva questo telefono sul mercato nel giro di pochi giorni e rappresenta, secondo me, una delle novità più interessanti di questo fine anno 2019. Ma non è l'unica novità presentata nella giornata di oggi. C'è infatti un'altra novità importante che è questa. Con questo colore davvero speciale arriva la McLaren Edition di OnePlus 7T Pro. Apriamo la scatola per vedere come è fatta questa confezione speciale con il richiamo al carbonio, che è uno dei materiali che piacciono tantissimo a McLaren. E poi il telefono, che ha come caratteristica principale quella di specifiche tecniche superiori e poi delle finiture speciali con il richiamo essenzialmente ai colori speciali di McLaren, in particolare con il pulsante, ma anche un gioco di colore che vedete molto bello e anche, tra l'altro, le finiture anche della fotocamera posteriore che sono particolari. E' una texture, quindi un dettaglio del cover posteriore che sono un'esclusiva del modello McLaren. Nei prossimi giorni torneremo proprio a parlarvi del modello McLaren e andremo oltre il semplice contatto hands-on per una recensione completa a vedere come questo modello riesce a essere ancora più veloce del 7T Pro. Insomma, quella di queste settimane di OnePlus è di nuovo, insomma, una proposta molto interessante. Ha semplicemente aggiornato i suoi prodotti 2019 con il nuovo processore, con delle migliorie del software. Come vi sembrano questi prodotti?